Musica 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 Facendo il video? Ah, il video! Oh, Jacopo, Jacopo lo devi inquadrare. Jacopo è un grande, giocava a cage con me, era un pazzo. E poi c'è, aspetta un attimo. Dimmi, 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 dimmi. E c'è Stefano! E c'è Stefano! Ma c'è Greggio! C'è Greggio, ragazzi! C'è Greggio! Oh, per scherzare! Poi c'è la Martina, grazie Martina, un applauso per piacere con la Martina. Pazzo, vada, vada a dirla a Dabbana, la vista a Dabbana, guardatino da sopra, guardatino da sopra. Allora, aspetta un attimo, un attimo. Che chiami? Che chiami? Che chiami? Che chiami? Te! Ecco qua, la Dabbana. Allora, te si dice Ademir, no, te è questo. Ademir! Comunque ama lui, ama lui. Poi c'è la signorina, come si chiama lei, signorina? Amata! Ma come è pazzi? Uuuuh! Che dalle Santa Barbara è nata, non ci può fare un cazzo, però. Oh, basta Greggio, cazzo! Quello! Qua c'è Anna, che viene dalla Russia-Polonia. Ucraina! 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 Ucraina!